Ben ragazzi, siamo ancora qui signori in questo nuovissimo video inate prima solo per voi Come potete vedere non sono Marty700 ma bensì sono McFly Come avete potuto vedere dal video oggi andremo ad affrontare delle tematiche molto importanti Non è vero? Andremo a vedere le scemenze che abbiamo combinato in montagna quest'anno Ovvero i best moments dell'inverno 2016-2017 C'è quello che abbiamo potuto registrare in vero Allora potete vedere delle sequenze dove faremo esplodere di tutto Coppone che cade ovviamente Ma prima la presentazione di tutti i nostri personaggi Allora il nostro group della montagna abbiamo creato insieme agli squat Ovvero sciatori quadrati uniti aerodinamici tonti Non chiedetevi perché signori Ehm cosa dobbiamo dire I membri sono McFly che sarei io Bambini che urlano Marty700 Jfly che ben conosce tutti Coppone Sovratelo Coppino E Damiano Chiamato anche Damsor Ehm bisogna vedere che siamo degli scemi totali Che sono dei piromani Fanno esplodere tutto Fanno quelle robe lì Ma bando alle cialce Via voi video Grazie a tutti Musica 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 un altro controllo un altro controllo l'iceo il controllo prima ti migliori grazie a te hai fatto 4 e 4 coperti morirò oh no che è molto vai, grande vai, vai, vai vai, vai, vai vai vai, vai vai, vai no vai vai su tutto dritto tutto dritto vi riniti oggi per spacchettare aspetta piano però mettetevi con le mani vicine aspetta fermo fermo no non fare il trick vai dai no così vai già visto qualcosa cos'è quello lì vai piano vai no non è niente vabbè ente però è onesto vapore non è figo allora vai 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 cacar sil che schifo come potrei definirvi chi siete voi nerd nerd sfigati no niente non è onesto meno male che non ho vinto perchè sennò mi incacchiavo di brutto la fuori si non ci credo non ci credo non ci credo la fuori di fare bella ragazzi va bene qui è martedì decente mcfly e jfly che vi parlano loro devono mettere un ciccio dentro a coca cola ciccio triongo come si chiama no jarno scusa aspetta fiero fresco fa il fumo facciamo un altro no no non riuscire facciamo un altro no facciamo un altro ok con due dentro però tanto non lo chiudiamo con il doppio bella ragazzi secondo me a chiuderlo ce la fai a chiuderlo un po' allora con una mano devi tenere di pronta a chiuderlo con una mano eh appunto scusami mentre che lo metti con uno tieni lì si intanto la mano ci c'è la rimettura però dai dai prima che arrivino altre persone che rompono dai muoviti abbiamo due minuti chiudi chiudi ma jarno no oh oh che figata viene arrivata la rive in testa sei bucato si alza no jarno togli il mano magari male finito epiche bottiglia male finito epiche bella ragazzi bella raga tutta rego brando brando auguri ai cangurini dai accendete due due bella raga tutta rego aspetta bella raga bella raga andiamo vai ecco uno si è incastrato l'altro e due auguri ai canguri minchia ma sei handicappato bevrando tutti i cappotti mi sa che vince leo e due l'epica esibizione di ardizio l'epica esibizione di ardizio è un salto troppo alto ora parte sbranzo ora parte sbranzo non è troppo bravo a sciare beh ma non ci credo non ho neanche ripreso ha perso controllo ardi ardi ha perso controllo grazie a tutti i cappotti grazie a tutti i cappotti grazie a tutti i cappotti grazie a tutti i cappotti